Sì, non è stata la gasa pure, prova a metterla in moto, sennò attacchiamo l'estate. No, no, ma non serve la pompa, quella è la seconda, se senti che ti manca, attacchi la seconda pompa. Non accelerare tanto, fermo, fermo, fermo. Basta che acceleri un poco. Sì, se volete farvi già dei due anni, ho trovato. Sì, se volete farvi già dei due anni, ho trovato, fermo, 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 fermo. Sì, se volete farvi già dei due anni, ho trovato, fermo, 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 fermo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.